Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere in studio una delle persone più garbate che ho l'onore di conoscere, Ettore Beggiato, che per modestia si definisce studioso, in realtà è uno storico a tutti gli effetti, autore di numerosi libri, in particolare sul Veneto. Questo è il più recente, titolo devo dire poco da marketing, perché 1439 Galeas per Montes, sottotitolo Navi attraverso i monti, edito dalla editrice Veneta. Leggo dal risvolto di Copertina. Nel 1439, 580 anni fa, la Serenissima fu protagonista di un'impresa straordinaria. Il trasporto di una flotta dall'arsenale di Venezia al lago di Garda, attraverso la risalita dell'Adige, fino a Mori, nel Trentino. E il trasporto delle navi via terra fino a Torbole, punta settentrionale del Garda, superando i 287 metri di passo San Giovanni. Immagino a spalla o trainando questa nave. Tutto questo al fine di aggirare l'assedio delle truppe milanesi all'eroica città di Brescia. Genio o follia? O tutti e due? Qua un po' di marketing c'è, lo scoprirete solo leggendo. Bene, anticipiamo, c'è poco da anticipare, da pensare, che oggi si usa dire spoilerare. Qua c'è poco da spoilerare, perché la storia è scritta, ma è un fatto straordinario. Sì, è una storia veramente straordinaria, se pensiamo che appunto ci è svolta 580 anni fa, quindi con i mezzi dell'epoca. Ed è interessante, io mi sono molto appassionato prima nell'approfondirla e poi nel scriverlo, perché quando viene proposta questa impresa al Senato nel 1438, i senatori veneti, i senatori della Repubblica, accolgono questo progetto con una certa perplessità, qualcuno anche con ilarità, perché dice... Avere un po' di grani su sali, però diciamo... Ma questi pensano di portare le navi addirittura sul lago di Garda. E poi evidentemente i protagonisti, quelli che hanno ideato questo progetto, sono stati così convincenti che il Senato Veneto ha dato luce verde, e da lì è partita questa impresa straordinaria. Che sa un po' da Fitzcarraldo. Esatto, esatto. Pensate cosa significa uscire dall'arsenale, poi risalire tutto l'Adige. C'è un primo grosso ostacolo a Verona, perché l'Adige è in secca e quindi devono... Aremi ovviamente risalivano. Sì. O trainati. No, beh, trainati e aremi, perché appunto la Galea aveva anche i rematori. A Verona c'è l'Adige in secco e devono studiare degli appositi galleggianti per riuscire a bypassare questa situazione. Poi si arriva a Mori, vengono portati sulla terraferma e si deve arrivare al passo San Giovanni, che è quasi 300 metri, ancora oggi è una strada piuttosto irta. Ma il peggio poi arriva nella discesa, perché è la discesa ancora più pericolosa. E allora... Ma quanto pesavano queste galee? Eh beh, diversi quintali, sono di diverse dimensioni. E allora mettono le veli in modo che... Da rallentare. In modo che con il vento che arriva dal lago di Garta rallenti la discesa delle navi. Quindi è un'impresa di ingegneria navale, terrestre, ripeto, e senza computer, senza calcolo, senza nulla. Ecco, solo con la forza dei buoi e soprattutto con la forza delle braccia degli uomini. E poi arrivarono nel lago di Garta per mettere una flotta in acqua e combattere i visconti. Esatto. E loro puntavano molto sull'effetto sorpresa. Effetto che purtroppo non c'è stato. Non si sa, gli storici dell'epoca non dicono se ci siano state delle spie, o semplicemente il convoglio era talmente particolare e inusuale per le montagne del Trentino, non capita tutti i giorni di vedere un convoglio di 30 navi. Avranno strabuzzato gli occhi, gli doveva passare. E quindi non c'è l'effetto sorpresa, arrivano più o meno all'altezza di Agenzano, per la precisione a Maderno, sulla sponda bresciana del lago di Garta, e lì trovano le navi dei visconti. Arrivano a Maderno via acqua, però a quel punto erano già in acqua. Erano già in acqua, sì, e trovano le navi dei visconti e lì c'è la prima sconfitta. Però naturalmente l'idea è quella comunque di arrivare a Brescia, allora ritornano a Torbolo e ricostruiscono le galee, cioè non partono più questa volta da Agenzano. Non ho capito, non facevano prima costruirle a Bordolago invece di portarle da Venezia. E di fatti è quello che succede l'anno dopo, nel 1440. E ma perché non l'hanno fatto subito? Come mai questa impresa? Evidentemente o non ci hanno pensato, o non c'erano ancora, avevano ancora studiato, o non c'erano i materiali, non è lato da sapere. E nel 1440 però questa volta la flotta veneziana, alla meglio sulla flotta dei visconti, e da lì praticamente l'intera provincia di Brescia, l'intera provincia di Bergamo e Crema entrano a far parte della Serenissima e rimangono fino al 1797, perché la Lombardia Veneta rappresentava una fetta molto importante della presenza della Serenissima nella terraferma. Ecco, quello che non capisco però, è chiaro che il territorio all'epoca era diverso da quello che ho in testa io attualmente, ma non era più semplice andare via terra invece di fare il giro per il lago di Garda per arrivare a Brescia, perché Brescia non è sul lago. Brescia non è sul lago, però in quel momento storico le truppe dei visconti comandate dal capitano di ventura Piccinino, contronavano tutta l'entroterra. E quindi la via che all'epoca si ipotizzò la più percorribile era appunto quella di aggirare l'esercito e prendere in qualche modo alle spalle i visconti attraverso il lago di Garda. A parte l'impresa dei veneziani che è straordinaria, però quello che personalmente mi ha sorpreso è la battaglia Lacustre. Ma era consueta in quell'epoca fare le battaglie navali nei laghi? Non l'avevo mai sentito. Non solo sui laghi, ma tante volte anche sui fiumi. Battaglie navali sui fiumi. Ci sono diverse nella storia della Serenissima e delle guerre in genere. Io per esempio ricordo una battaglia che fu combattuta fra quella che era la marina austriaca e la marina ottomana sul Danubio. Quindi non era così infrequente una battaglia. Anche sul Po ci sono state diverse battaglie proprio anche fra veneziani e milanesi e le navi dei visconti. Teniamo conto che siamo nel Quattrocento. Il Quattrocento è un secolo di particolare interesse proprio perché anche all'interno della Serenissima c'era un dibattito piuttosto forte fra chi sosteneva, ed è famosa la frase che dice coltivare il mare e assarztare la terra. Cioè fino al Quattrocento la Serenissima si dedica quasi esclusivamente al mare. È con il Quattrocento e soprattutto con il grande doge Francesco Foscari che la penetrazione della Serenissima arriva nella terraferma a Veneta e Lombarda. E quindi è questo il secolo degli scontri soprattutto con i visconti. Per trasportare la flotta da Venezia fino al Lago di Garda quanti uomini vennero impiegati e quanto tempo ci volle? Beh, gli uomini non è dato a sapere ma diverse centinaia, forse qualche migliaia. Gli storici parlano di 2.000 buoi, 15.000 Ducati di spesa complessiva, il tempo diverse settimane anche lì le fonti non sono particolarmente precise sotto questo punto di vista. Ma questa lucida follia aveva un nome e un cognome, ci fu uno che propose l'avventura? Allora, furono due, Blasio de Arboribus e un marinaio originario di Creta, Ocandia, come veniva chiamata all'epoca, Nicolò Sorbolo. Ecco, questi due sono, diciamo, gli ideatori di questa impresa e che, come dicevo prima, all'inizio hanno dovuto sorpirsi una buona dose di incredulità. Ma erano, che ruolo avevano? Erano militari? Beh, c'era già, uno era un ingegnere e un altro era un marinaio della Serenissima, originario appunto di Creta. E dobbiamo, alla loro inventiva, dei visionari, perché appunto solo pensare un'impresa del genere è qualcosa di fuori del comune. Tra l'altro partivano e non sapevano che cosa avremmo incontrato strada facendo, tipo la secca dell'aggi e quindi dovevano anche trovare delle soluzioni strada facendo. Ecco, e come portarono la flotta in salita? Ecco, trainando con dei pali, avevano ipotizzato e costruito come una specie di, come si chiama, di rullo e quindi con il trascinamento sui pali. Ma in salita chi è che tra i buoi? I buoi, i buoi che trascinavano e che, ripeto, è un'impresa che sarebbe veramente interessante per esempio anche riproporla come un film perché... Per quello è venuto in mente Fitzgerald. Esatto, e di fatti anch'io lo cito all'interno del volume perché ci sarebbero tutte le caratteristiche per fare un film di azione di straordinaria intensità e questo potrebbe essere un ulteriore mezzo per far conoscere un'impresa del genere perché la molla che mi ha fatto, che mi ha spinto a stampare questo volumetto è anche il fatto che questa è un'impresa che continua ad essere reattivamente poco conosciuta, soprattutto la nostra gente. E quindi, Ettore Beggiato, oltre a essere storico, studioso, si candida anche a farlo sceneggiatore cinematografico. Comunque la storia c'è tutta, il pretesto, il motivo è leggere questo libro. 1439 Galeas per Montes, Navi attraverso i monti, editoriale Veneta e la casa editrice e la storia è davvero straordinaria. Grazie. Grazie a voi. Alla prossima, ci si vede? Grazie. Grazie a tutti.